Sì, diciamo che una volta trovato il vantaggio e la superiorità numerica non avremmo dovuto concedere quei due gol che sono venuti su delle nostre disattenzioni. Però mi prendo la grandissima lucidità che ha avuto la squadra, perché sul 2-1 l'ho vista molto lucida nel fare il proprio gioco, perché probabilmente ci si poteva anche nervosire sotto i 2-1, però la squadra è rimasta lucida, ha meritato la vittoria, continua a fare tanti gol, penso che ne avremo fatti già più di 100, è un record molto importante, però oltre ai record adesso dovremmo cercare di dar seguito a questa vittoria che per noi era importante.